Chiudi gli occhi e rilassati, rilascia tutte le tensioni della giornata, rilassi gli occhi, le spalle, la pancia, le gambe, poni l'attenzione sul tuo respiro, l'aria che entra, l'aria che esce. Chiamo gli arcangeli Michele, Raffaele e Gabriele per chiedere il loro supporto. Davanti a te vedi due figure, la persona che vuoi perdonare e la tua ferita. Quest'ultima, che colore ha? Che forma ha? Osservala. Chiediamo all'arcangelo Michele di tagliare il legame che ti lega a lei con la sua spada di luce. Senti che siete due cose distinte. Ora chiediamo all'arcangelo Raffaele di colmare quella ferita con la sua luce verde e divina di guarigione. Senti l'energia divina di amore. Sei guarito. Ora la tua anima. Perdona l'anima della persona e la saluta dicendo Namaste. Il divino che è in me saluta il divino che è in te. La lasci andare e sei libero. Ringraziamo gli arcangeli. e senti la leggerezza, l'amore e la gratitudine. Sei guarito. Sei libero. Sei amore. Ora muovi le mani e i piedi e quando sei pronto apri gli occhi e torna qui